Sono con il direttore Filippo D'Alessio, ciao Filippo, insomma finalmente ricominciamo a tornare a teatro, già dalla riapertura insomma mi pare che ci sono stati sintomi incoraggianti, no? Sì, intanto diciamo sì, stiamo tornando a teatro ma il teatro di Torbella Monaca ha sempre riaperto subito, cioè quando sono arrivate le indicazioni insomma di riaprire i teatri non abbiamo riaperto subito, quindi ripartiamo insomma ma ripartiamo da lì, quindi non arriviamo diciamo lunghi all'apertura ma arriviamo pronti. Da quel 2015 in cui ci fu quell'anno un po' triste di chiusura siete ripartiti con un grande slancio, con un lavoro soprattutto in prospettiva? Sì, sì, noi abbiamo riaperto dopo quell'anno in fausto, abbiamo riaperto molto bene, tanto pubblico, ottimi spettacoli e quindi tutto quel lavoro lì è diciamo così è quel lavoro giusto per ripartire oggi e lo stiamo facendo ottimamente proprio anche con la nuova programmazione che vedrà appunto l'arena estiva insomma impegnata con tante proposte per un pubblico. Non solo teatrali? Non solo teatrali, ma non solo teatrali perché appunto c'è tutta questa prima parte del Torbella Monaca Teatro Festival dal 4 luglio fino al 15 agosto, poi contiamo insomma di fare una rassegna di cinema e a settembre diciamo chiudere in bellezza con degli appuntamenti musicali. E naturalmente aprire anche l'arena, ovviamente anche gli eventi calcistici, visto che c'è l'Europeo di calcio? Beh sì, diciamo noi abbiamo ospitato, questo è un progetto che abbiamo realizzato in collaborazione col municipio, abbiamo ospitato, stiamo ospitando appunto in video i campionati europei, ma vuole essere un segnale proprio di ripresa anche per avvicinare tante persone che magari non conoscono, soprattutto i più giovani, che non conoscono il posto magari e che con l'occasione della partita lo conoscono, si incuriosiscono e magari vengono a trovarci anche in stagione oppure in questa lunga estate insomma che ci vede protagonisti. Ecco, parlavo appunto con Alessandro che il Torbella Monaca si può configurare come un esempio positivo di collaborazione tra pubblico e privato, che ha funzionato perfettamente. Sì, noi abbiamo sperimentato da subito un modello pubblico privato, cioè dei privati che attraverso un bando prendono diciamo così la concessione, la gestione di uno spazio pubblico e quindi questo diciamo ci ha messo subito in campo per trovare la strada migliore per realizzare un progetto che comunque rispondesse intanto ad un'etica, ad un percorso che è quello che comunque determina e detta uno spazio pubblico perché la proprietà è pubblica. Dall'altra parte diciamo le capacità anche gestionali e anche di costruzione poi insomma di quello che è una programmazione e anche di lavoro insomma che poi un privato in qualche modo sa fare. E dove comunque la presenza delle istituzioni pubbliche, quindi il municipio che è proprio qui accanto ma anche l'assessorato di Roma Capitale sono stati sempre molto vicini. Allora noi insomma lo abbiamo detto con molta chiarezza, c'era stata una grande spinta appunto nel 2013 con chi amministrava la città allora ma sicuramente anche a chi l'ha amministrata prima per rilanciare questo luogo e questo spazio. Non dimentichiamoci che il progetto Urban ha fatto sì che questo diventasse un teatro così come oggi lo vediamo. Il progetto Urban che partiva da una volontà importante e forte che era quella di Rutelli raccolta poi da Veltroni. Poi nel 2013 appunto si comincia a costruire un percorso diverso. Noi partecipiamo e ci siamo lanciati in questa avventura che ci sta dando grandi soddisfazioni e registriamo in questi ultimi anni chiaramente una grande attenzione perché il teatro comunque non ha chiuso, quando il bando è scaduto immediatamente è stato fatto l'altro bando, non ci sono stati periodi di chiusura e oggi diciamo che insomma nonostante la pandemia è un teatro che è aperto ormai da cinque anni senza interruzioni. Si comincia il 4 luglio, nomi importanti, cito la Guerritore, Monica Guerritore ma anche Roberto Sturno. Quindi tanti gli artisti. Si comincia con? Cominciamo proprio con Alessandro Benvenuti, Panico Marrosa dal 4, 4 e 5 luglio alle ore 21. Siamo felicissimi perché comunque è il direttore artistico di questo teatro e per noi è importante che il segnale più forte e più coraggioso venga proprio da Alessandro perché è l'anima insomma di questo luogo e con lui stiamo vivendo questa grande avventura e contiamo insomma di viverla anche nella ripresa che senz'altro ci sarà insomma dopo questo momento difficile causato dalla pandemia. Filippo D'Alessio grazie, in bocca al lupo naturalmente e buon teatro. Grazie anche a voi e buon teatro a tutti e vive il teatro.